si potrebbe dire cari amici dello schiacciassi che il re il nudo e in particolare in questa occasione qua a essere nudo brutta visione onestamente è il ministro alla salute roberto speranza un esponente di liberi uguali quelle schegge post comuniste che si sono gemmate dopo la divisione del partito democratico cosa ha fatto speranza per meritarsi questo appellativo e ad essere diciamo appena rincaricato un ministro travicello sempre più traballante si viene a scoprire che in questi giorni qua oltre ad avere calcolato tutti i suoi numerosi insuccessi nella gestione della sanità durante la stagione della pandemia che sono ormai numerosissimi che lui ha fatto ha dato alle stampe un libretto che gira in maniera carbonara in italia è stato c'è stato un tentativo di diffusione di pubblicazione subito ritirato mentre all'estero circola tramite i canali di qualche grande editore digitale praticamente quello succede che mentre tutte le categorie protestano un giorno sì e l'altro pure si viene a capire leggendo le cronache di chi ha letto ha avuto in mano questo libro che il nostro caro ministro speranza ministro alla salita alla salute ha di fatto attuato nella gestione della pandemia da coronavirus uno dei dettami una grande sperimentazione sociale di applicazione della cultura della sinistra del peggiore maxismo dell'annientamento delle categorie soprattutto di quelli borghesi produttori di ricchezza e quant'altro e questo se andiamo a vederlo i fatti lo confermano perché tutte le categorie dei lavoratori dipendenti del pubblico impiego dei salariati vi dicendo dalla pandemia hanno avuto poco o nulle conseguenze tranne forse quelli che hanno avuto la cassa integrazione e guarda caso oggi si viene a sapere da uno studio fatto da un'impresa che nel vari susseguirsi delle normative ci si accorge di un errore e che a marzo tutti coloro che prendono la cassa integrazione covid avranno anche un buco di 10 giorni pari da 150 a 200 euro nella loro retribuzione ringraziamo praticamente i governi visconte e in misura minore anche il draghi perché ci sono mancati diciamo il coordinamento tra le due norme ma tornando a noi e tornando al nostro carissimo ministro speranza che è una paracic di partito che sempre da giovanissimo ha praticamente vissuto di pane politica e libro rosso di marx cosa fare da questo punto di vista speranza è ormai sull'orlo del baratro e nonostante ci sia stato un premier come mario draghi che nonostante l'errore nei confronti di confronti di erdogan che ha definito un dittatore dicendo anche una quasi ovvia realtà anche se è stato subito rintuzzato dal fatto che il dittatore è stato eletto mentre lui non dittatore è stato semplicemente nominato dai partiti ma aver difeso speranza dicendo che lui è un ministro di sua fiducia che lui ha scelto personalmente beh forse questo è un scivolone da neofita della politica perché probabilmente si poteva risparmiare tranquillamente e non mi stupirei se nei prossimi giorni speranza sotto i colpi della anche delle inchieste della magistratura non dimentichiamoci che c'è la procura di bergamo che sta indagando sullo scandalo di come è stata gestita la pandemia e soprattutto il discorso del rapporto oms che è stato pare purgato sotto qualche influenza proprio del ministro dell'entourage del ministro stesso se queste cose venissero portate avanti venisse un ulteriore consolidata prova è ovvio che speranza ha poca speranza di poter rimanere ancora al governo tant'è vero che anche i giornali al giorno di questi giorni qua stanno sempre più martellando sul fatto dell'opportunità che un ministro come speranza possa rimanere soprattutto dopo che si è scoperto quello che ha scritto nel libro e che ha utilizzato la pandemia da coronavirus per poter fare un tentativo di sperimentazione sociale a danni di tutta quella che è la media e borghesia e la classe produttiva del paese cari amici vicini lontani dello schiacciassassi se vogliamo finire in bellezza questa puntata dando la parola anzi la matita al nostro vignettista domenico la cava che ha interpretato i fatti di draghi e di speranza alla sua maniera facendo intervistare draghi da un giornalista il quale gli dice presidente cosa ne pensa di erdogan è un dittatore e per quanto riguarda la nostra sanità ci dia un giudizio speranza di speranza però mi sa che ne rimarrà molto poca e speriamo che questa persona tolga più presto il disturbo cari amici vicini e lontani dello schiacciassassi un saluto da stefanoina e arrivederci alla prossima puntata grazie